Ciao a tutti ragazzi, io sono Daydm Free e oggi siete nel mio primissimo video. Prima di cominciare con Troll Face Quest Boss, voglio dire solamente che ho aperto questo canale per farvi divertire a me e anche voi, quindi penso che sia una cosa carina. Quindi perché giocherò con giochi, tardi faremo pure parodie, ma anche risponderò alle vostre domande. Quindi, noi cominciamo con Troll Face Best Boss. Questa è bambina, che ne so? Perfetto, si chiama Troll Face Quest Boss. Era logico, dovevo cliccare il troll. Dai, dai! Perché abbraccio di ferro fai una pipa! Che caro! Cos'è sto coso? Giusto! Basta più dalla palestra. Ora andiamo con la punta, facciamo i muscoli e alziamo così di 150 minuti. A posto! A posto! Inizia! Poi fruita tanto! Ci è la prima cosa! Perfetto! Non è importante! Scusate! Vabbè! Perfetto! Ampettiamo! la luna è fatta di formaggio, lo sapevo basta, basta, come ho detto la luna è fatta di formaggio basta, l'avevo detto ok, basta la stella il nome, una capra il tizio giusto, pure io l'ho detto pure io l'ho detto pure io l'ho detto per io l'ho detto ok, dai tu fai una pippa a piaccia di ferro dai, prenditi pure i tuoi muscoli una bomba come quello che fa no, un cane ci diamo un cane a lui perfetto ho trovato il modo per far posso fare i miei addominoli guarda come lo faccio ho detto cosa ne hanno fatto questa è tutta la facciccia si è versata addosso nel vero, nel piede vabbè, si ritro giusto, lì si fa certo, è la testa andiamo ok, Holy Dici c'è chi classico vorrei magari senti szczerzi non mi fa non mi sa ne vi sa von Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora la testa a bomba, ma me la vado a comprare. Non si serve. Giusto. E' arrivato un tizio che mi sa che ha sbagliato pure il campo perché non siamo a solo questa dio e i maoba. Io ci scommetto che questo trollo che c'entri qualcosa. Ma va. Trollolo. Ole ole. Team Canada. Basta più fare gol, d'ora in poi così si gioca. Hai una nera. Veramente. Mami a... Mami a... Ho perso. Come me la vado? Fata un punto. 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 Fata un punto.